Sì, bene, grazie intanto per la bella introduzione e per l'invito credissimo. Un po' meno per il programma, perché parlare tra Alberto Larghi e Paolo Arcidiago, insomma, è una bella prova. Comunque, detto ciò, parlando di terapie ablative, delle neoplasie pancreatiche, dobbiamo innanzitutto inquadrare dall'alto, diciamo così, il problema, e considerare che esistono innanzitutto vari tipi di terapie ablative. Si parte dalle terapie iniettive, la più antica, così, è l'iniezione di alcol, terapie termiche, di cui forse fa da padrona la radiofrequenza, se non altro perché forse è la più diffusa attualmente, ma ne esistono altre, terapie poi non termiche, tipo l'elettroporazione irreversibile, l'elettrochemioterapia, che sono attualmente però solo appannaggio dalla chirurgia. Poi ci sono vari tipi di neoplasie, tumori che possono essere ablati, e quindi chiaramente con diverse implicazioni, e anche le vie possono essere diverse, chirurgiche, percutanee o appunto endoscopiche. Partendo dall'adenocarcinoma duttale, la prima domanda che ci si deve fare è da cosa viene la necessità, la voglia quasi di aggredire questa neoplasia? Ovviamente è un po' la disperazione, perché sappiamo tutti che chi ha un carcinoma del pancreas purtroppo è condannato a una prognosi in fausta, e quindi si tenta di costruire un trattamento multimodale nel quale probabilmente l'ablazione locale si può inserire, e il razionale, tutto ovviamente ancora da dimostrare, è quello che si riduce praticamente la massa tumorale, si può implementare l'attività dell'unico strumento che ad oggi ha migliorato la sopravvivenza, che è la chemioterapia, e potrebbe, ci sono dei dati iniziali, migliorare la risposta immunitaria contro il tumore. Tutto questo dovrebbe portare a un incremento della sopravvivenza. Riguardo l'implementazione dell'efficacia della chemioterapia, ovviamente tutto questo è ancora teorico, in questo studio Song nel 2016 dimostrava un incremento su una piccola case series della vascularizzazione attorno alla zona ablata, con l'equendo con mezzo di contrasto, e quindi questo teoricamente può favorire il chemioterapico, se fatto subito dopo l'ablazione, a raggiungere appunto la parte non ablata della neoplasia, quindi il ring che rimane per forza di cose attorno all'ablazione. Riguardo l'immunomodulazione, si parte da studi ovviamente fatti su neoplasie non pancreatiche, ma si arriva oggi, con questa piccola case series, a dimostrare che effettivamente l'ablazione locale stimola il sistema immunitario contro le cellule tumorali. E questo perché si ha un rilascio di antigeni, un'anche presentazione di antigeni, quindi il sistema immunitario è stimolato a agire contro queste cellule e si ha anche una riduzione dell'immunomodulazione. Ovviamente, ripeto, tutte queste sono evidenze ancora estremamente deboli. Chiaramente, per quanto riguarda la radiofrequenza, la prima esperienza viene dai chirurghi. In particolare il gruppo di Verona e di Peschiera ha messo su una discreta esperienza, ma il dato che già nel 2010, quindi parliamo di un decennio fa, e quindi sono già tanti anni che si lavora su queste procedure, avevano un'altissima percentuale di complicanze. Una parte correlata alla radiofrequenza stessa, una parte invece correlata alla chirurgia, con un 2% di mortalità e 10 giorni di ospedalizzazione media, cioè dati assolutamente inaccettabili. Hanno nel tempo quindi abbassato la temperatura che applicavano in solo operatoria, con certamente una riduzione degli eventi avversi, però se da un lato vogliamo stimolare il sistema immunitario, se facciamo una laparotomia, certamente questo non aiuta, anzi. Pertanto ci hanno chiaramente passato un po' la palla, nel senso che ad oggi il trattamento ablativo chirurgico è praticamente abbandonato e viene fatto per via mini-invasiva, che può essere endoscopica o nel nostro centro anche per via percutanea, grazie, devo dire, all'abilità dei nostri radiologi. Certamente l'eguendoscopia offre però un'ottima combinazione di visualizzazione della lesione, quindi di guida, e appunto la mini-invasività, quindi non c'è il trauma chirurgico, l'ospedalizzazione è brevissima, e la chemioterapia si interrompe per pochissimo tempo, in più, cosa da non dimenticare, è una procedura ripetibile. Per la radiofrequenza utilizziamo prevalentemente un ago elettrodo raffreddato a 19 gauge che passa nel canale operatore, questa è la pompa per raffreddarlo, e poi c'è un generatore che ci dà informazioni riguardo il vattaggio che possiamo stabilire e l'impedenza. I dati che attualmente sono disponibili sono però prevalentemente di fattibilità e sicurezza. Questo è lo studio di song al quale accennavo prima, su sei pazienti applicava 50 watt per 10 secondi con molte applicazioni, perché 50 watt è un vattaggio piuttosto alto, per cui si carbonizza quasi subito, l'impedenza sale molto rapidamente, devi fare più passaggi per ottenere un'area abblata sufficientemente grande. Noi abbiamo pubblicato una piccola serie di pazienti in cui però come principale novità applicavamo un vattaggio più basso proprio per far diffondere il calore più lentamente e far meno applicazioni. E questo sostanzialmente è il diagramma che mostra come a 30 watt l'applicazione può durare anche un minuto, che è comunque un tempo non irrilevante, e poi nel momento in cui l'impedenza va su il trattamento è finito, per cui si blocca l'ablazione. Però anche in questo caso è un'evidenza solo di fattibilità e sicurezza. Questo ve lo mostro molto giusto per far capire ai giovani come viene fatto. L'ago noi cerchiamo di metterla al centro della lesione lasciando un rim di sicurezza e poi si attiva il generatore e si assiste alla diffusione di bolle gassose che vanno più o meno a coprire eccole che partono, vanno a coprire poi tutta l'area della neoplasia. Vado avanti perché appunto è molto lungo. E questi poi sono i risultati in TAC, questa è un adenocarcinoma duttale vicino praticamente a una protesi biliare in plastica, questa invece è una metastasi da carcinoma renale che poi alla TAC sempre in fase arteriosa, vedete non è più vascolarizzata ma risulta del tutto avascolare. Evidenze sulla sopravvivenza sono veramente povere e deboli. Sono tutti attualmente studi retrospettivi alcuni dei quali vengono dai nostri centri chirurgici di Verona e Peschiera e sono gravati però da dei bias di selezione veramente grossi. È chiaro che in un studio retrospettivo probabilmente i pazienti trattati con radiofrequenza erano quelli che avevano già in parte risposto alla chemio che quindi avevano già una probabilmente una biologia tumorale più favorevole e quindi non è da attribuire probabilmente alla radiofrequenza questo incremento della sopravvivenza ma ad altri fattori. C'è poi un trial chirurgico Peschiera-Verona i cui dati non sono ancora pubblicati ma vi posso già anticipare sono assolutamente negativi. E poi ho trovato quest'altro trial che è in corso credo sia olandese o tedesco sono arrivati a circa 130 pazienti arruolati anche questo chirurgico non ci sono ancora i risultati finali. Oltre alla radiofrequenza ovviamente ci sono altre tecniche ablative non ci sono studi ovviamente di confronto tra le varie tecniche però una di queste è il laser di cui si occupa il dottor Di Matteo prevalentemente al campus e poi c'è la crioterma ablazione di cui invece si occupano i colleghi del San Raffaele anche qui ad oggi prevalentemente disponibili risultati di fattibile sicurezza ma loro hanno in corso un trial randomizzato chemioterapia più crioterma ablazione verso chemioterapia da sola quindi aspettiamo ovviamente i dati. Però probabilmente il problema è più profondo molto più profondo cioè quello che noi vediamo verosimilmente è soltanto una parte di quella che è la reale storia della malattia e dove dobbiamo andare invece a lavorare probabilmente sulla biologia dell'enoplasia. Infatti sappiamo già ad oggi che il carcinoma duttale non è una malattia sono tante malattie sappiamo che ci sono diversi pattern di crescita ci sono quelli che crescono solo localmente quelli che danno magari una malattia oligometastatica e quelli che invece sono sistemiche sin dall'inizio anche se all'inizio questo noi ancora non lo vediamo. E quindi probabilmente la domanda non deve essere queste terapie locali servono nel duttale probabilmente la domanda dovrebbe essere possiamo selezionare un sottogruppo di pazienti dove applicare e quali applicare la radiofrequenza o altre terapie ablative. E in parte le risposte al fatto che questa idea probabilmente ha un substrato vengono dagli studi sulla SMAT4 che hanno dimostrato che quelli che hanno wild type di solito hanno una crescita tumorale locale mentre chi ha il SMAT4 mutato tendenzialmente ha più probabilità di sviluppare metastasi. E in questo studio retrospettivo del nostro gruppo di chirurghi è stato osservato come i pazienti trattati con radiofrequenza avevano un miglior outcome se effettivamente avevano la SMAT4 wild type. Ovviamente è verosimile che il problema sia molto più complesso e la signature genetica sia diversa non è soltanto un problema di SMAT4 ma lavorando con i patologi e con i genetisti probabilmente arriveremo a capire chi può giovare meglio del trattamento ablativo locale. Altro problema ancora irrisolto è quando utilizzare la radiofrequenza o l'ablazione nel contesto della strategia multimodale. all'inizio dei trattamenti a metà fra dei cicli di chemio seguiti poi da un'ulteriore chemioterapia o alla fine. Tutto questo ovviamente ancora oggi non ha risposta. Altro capitolo sono i tumori neuroendocrini e anche qui dobbiamo poi dividere i tumori neuroendocrini funzionanti e non funzionanti. Questa è una review di qualche anno fa in cui il dato che salta subito all'occhio è che le neoplasie neuroendocrine funzionanti che sono prevalentemente insulinomi hanno una risposta eccellente al trattamento ablativo locale. Risposta intesa come risposta clinica cioè abbattimento e cessazione dei sintomi. Chiaramente l'esperienza viene dall'ablazione con alcol che però nell'insulinomi ha dei rischi perché la neoplasia è molto piccola ci vuole poco alcol che viene gestito con la siringa manualmente può diffondere, può dare degli effetti collaterali quindi anche per questo tipo di neoplasie l'alcolizzazione in parte è abbandonata anche se non del tutto e ci si sta muovendo verso l'ablazione termica con radiofrequenza. Questa è una piccola serie di tre casi in cui si è assistito a una risoluzione dei sintomi con un anno di follow up che può sembrare non lunghissimo però è abbastanza lungo e comunque non ci dimentichiamo che la procedura può essere ripetuta cioè in caso di recidiva dei sintomi che può succedere ci si può tornare e abblare di nuovo l'insulinoma. Tecnicamente uno dei problemi può essere inserire l'ago elettrodo che comunque è un 19 gauge quindi comunque è abbastanza consistente dentro una neoplasia di 7-8 mm però insomma chi ha un po' di esperienza di biopsie alla fine anche se a volte con un po' di fatica riesce a mettere l'ago nel posto giusto. Magari passando anche un po' oltre ma questo non fa niente. Capitolo invece un po' più ostico è quello dei NET non funzionanti. Questo ve lo riporto solo perché uno dei primi casi che abbiamo fatto era un NET di quasi 2 cm G2 in un paziente che rifiutava la chemio della chirurgia pur essendo un G2 basso grado però adesso ha quasi 4 anni di follow up e non ha segni di recidiva. Da allora ci sono due studi prospettici due case series prospettiche in questo abbiamo 7 NET non funzionanti è un insulinoma dei 7 NET non funzionanti il CHI 67 era disponibile in due dei quali uno era un G1 e uno era un G2 non si sa bene quali di questi. Quello che salta però subito all'occhio è che 4 di queste neoplasie erano piccole cioè sotto i 2 cm sappiamo che il cut off praticamente per trattare in qualunque modo un neuroendocrino sono appunto i 2 cm dimensionale ovviamente poi ci sono tanti altri aspetti però probabilmente in questi studi iniziali quello che va visto che è una revisione diciamo critica della letteratura la critica costruttiva che possiamo sollevare è proprio la selezione dei pazienti che deve essere molto accurata. Però il dato interessante che viene fuori da questo studio è che il trattamento applicato nel tempo è come se continuasse a funzionare in realtà probabilmente non è così ma è la necrosi coagulativa che abbiamo creato che nei mesi a seguire tende a riassorbirsi e quindi la dimensione della neoplasia si riduce. Altro studio prospettico è questo francese multicentrico sempre su net non funzionanti ne hanno arruolati 14 e anche in questo caso la selezione dei pazienti secondo me non è stata proprio come dire accurata se guardiamo la dimensione media 13 mm il range 10-20 tutti ben differenziati G1 cioè teoricamente nessuno di questi pazienti secondo le linee di guida attuali salvo che non ci fossero altre caratteristiche che però nello studio non sono riportate non necessitavano di alcun trattamento potrebbero tranquillamente fare un follow up tra l'altro 1 era associato a meno 1 quindi indolente diciamo per definizione e anche in questo caso viene fuori una risposta del 70% che migliora ulteriormente durante il follow up peraltro dato invece interessante che viene fuori da questo studio riguarda gli eventi avversi e la loro prevenzione 3 eventi avversi sono stati registrati 2 dei quali nei primi 2 pazienti per quanto riguarda i net il primo in assoluto era appunto quello con la men 1 che aveva un net solido di 8 mm con vicino un net cistico teoricamente di 15 che ha sviluppato una pancreta acuta il secondo era un net di 12 mm quindi anche esso molto piccolo che ha sviluppato una stenosi del dotto che è stata poi gestita endoscopicamente il terzo invece lo hanno rilevato in una lesione cistica per cui hanno iniziato era cambiato il protocollo e hanno iniziato ad applicare una profilassi rettale con fans e antibiotico e hanno notato che effettivamente c'è stato un crollo degli eventi avversi quindi seppur con tutti i limiti di questo studio dei dati interessanti per studi futuri sono venuti fuori e per quanto riguarda le cisti l'aspirazione di gran parte del liquido prima di applicare la radiofrequenza chiaramente quello che noi dobbiamo chiederci è dove si inserisce la radiofrequenza nelle linee guida diciamo di management dei net non funzionanti siccome sappiamo che il cutoff appunto sono i due centimetri o il grading fatto chiaramente per forza di cose su biopsia probabilmente è a metà che ci dobbiamo mettere in mezzo praticamente tra l'osservazione e la chirurgia perché è chiaro che da un lato l'osservazione può in casi selezionati esporre il paziente a rischio di metastatizzazione e dall'altro la chirurgia pancreatica è gravata da morbidità e immortalità non irrilevanti anzi anche in centri ad alto volume per cui con Alberto abbiamo fatto una revisione della letteratura e abbiamo messo su un protocollo di studio prospettico nel quale inseriremo che è già in corso nel quale inseriremo non soltanto i net funzionanti ma i non funzionanti però con dei criteri cioè o G1 di dimensioni però almeno di 15 mm tra 15 e 25 o G2 basso grado quindi sotto che 67 sotto il 5% che devono avere però una PET galli ovviamente negativa per lesioni a distanza devono avere una PET FDG negativa perché questo sappiamo essere associato a una maggiore aggressività della malattia e non devono avere tutte quelle caratteristiche che diciamo pongono il sospetto di un NET più aggressivo questo non perché vogliamo trattare NET indolenti ma perché all'inizio dobbiamo essere come dire fare i passi uno alla volta poi magari estenderemo anche neoplasie più teoricamente più aggressive chiaramente la decisione va soppesata bilanciando comorbidità e rischi del paziente operatori cioè una duodenosefalo non è uno scherzo e aspettativa di vita appunto e rischi della neoplasia ultimo capitolo velocissimo quello delle cisti ancora più delicato l'ablazione può essere fatta con alcol ma ha una risposta sicuramente non soddisfacente può essere fatta con il lavaggio con paclitaxel in cui la risposta completa è sicuramente migliore ma vedete gli eventi avversi non sono da poco quindi ancora di più probabilmente rispetto ai NET è fondamentale la selezione dei pazienti ricito lo studio francese perché hanno ruolato anche 17 lesioni cistiche in questo caso avevano una selezione forse più attenta perché tutte avevano noduli murali spessi vento di parete quindi caratteristiche di rischio e anche qui la risposta sarà circa del 70% cito questo studio solo per un motivo perché uno bilancia bene rischi personali del paziente e rischi legati alla cisti sappiamo questo studio ci dimostra come se un paziente ha un basso rischio personale e un acisti a basso rischio morirà verosimilmente con la cisti e non per la cisti se il paziente ha invece un alto rischio personale e una cisti a basso rischio non c'è storia si può lasciarli dove è se invece abbiamo un alto rischio personale e una cisti ad alto rischio seppur non essendoci confronto fra il rischio di mortalità per altre cause il rischio di mortalità per carcinoma pancreatico è comunque considerevole è l'unico braccio in cui i due rischi di carcinoma pancreatico e morte per altre cause quasi diventa uguale e quando abbiamo pazienti giovani senza comorbidità con cisti ad alto rischio quindi probabilmente dove il trattamento ablativo locale si può inserire se qui chiaramente lasciamo lo spazio ai chirurghi e qui perché sebbene appunto il rischio di mortalità per altre cause sia più alto 6.5% di rischio per cancro non è poco quindi probabilmente è qui che dobbiamo provare ad applicare la rifrequenza nelle lesioni cistiche l'ablazione nelle lesioni cistiche grazie